Christy aspettava da tanto dei nuovi genitori e poi è successo un miracolo! È stata adottata! Buona fortuna con la tua nuova famiglia, Christy! È difficile lasciare l'orfanotrofio, ma devo sbrigarmi! I nuovi genitori mi stanno aspettando! Hanno anche mandato un'auto a prenderla! Wow! Eccola! La mia nuova mamma! È una superstar mondiale! Che corsa veloce! Mamma, papà, sono a casa! Oh, chi sono? Fatemi passare! Ma i paparazzi non perderanno l'occasione di fare uno scatto! Dovrai abituarti! Christy è la figlia di una superstar ora! Peccato che Christy non sappia posare per le foto! Ma ci penserà dopo! Questa è la sua prima colazione in famiglia! Tesoro, ti presento Thomas, il tuo nuovo papà! È così bello stare con la famiglia! Tutti sono felici! Si sono persino dimenticati delle buone maniere! Quante cose deliziose! Ok, succede! Lascia che sia felice! Christy non ha bisogno delle buone maniere perché i suoi genitori la amino! Di nuovo quei paparazzi! Sono ovunque! Guardano dalle finestre e si arrampicano sulle porte! Sul serio? Dovremmo annullare la nostra passeggiata! Dai, pensa! Ho una soluzione! Che ne dite di un travestimento? Dovrebbe funzionare! Cosa ne pensate? Siamo irriconoscibili! Andiamo! Via libera! Ma non sarebbe male avere un aiuto in più! Pronto? Ci serve una distrazione! Fatto capo! I paparazzi sono dei creduloni! Ecco la nostra star! Sarà un grande scoop! Non oggi, amico! Dammi la macchina fotografica! Oh no! Come ha fatto a cascarci? Via libera famiglia! Seguitemi! Sì, la fuga ha funzionato! Il paparazzo dovrà acquistare una nuova macchina fotografica! Annie sta distruggendo il palco! I suoi fan amano tanto le sue canzoni! Applausi e regali sono normali per Annie! I concerti sono così estenuanti! Ma Chrissy ha molta energia! Ovvio, dal momento che riceverà tutti questi regali! È fantastico essere la figlia di una superstar! E dopo il concerto, si possono fermare in un locale! Per mangiare un delizioso hamburger! Ci sono anche i paparazzi e i fan! Sorridi! Una sessione di autografi? Certo! Ma a volte è fastidioso! Andiamocene da qui! Annie è una professionista nel nascondersi! Oh! Dov'è la nostra star? È scomparsa! Ha tanti talenti! E la famiglia è finalmente al sicuro! Fiu! Sono scappati! Chrissy ha persino portato con sé gli hamburger! Ottimo lavoro! Volete mangiare? È di nuovo lui! Oh, beh! Ora tutti sapranno che Annie ama il fast food! Ma è tutto ok! L'hamburger è davvero buonissimo! Benvenuti al concorso per talenti! Sarà una serata interessante! Ecco il primo concorrente! L'ukulele è la sua specialità! Oh no! Qualcuno lo faccia smettere! Che fallimento! Ti do due punti, giovanotto! Devi continuare ad esercitarti! E cosa ne pensano i giudici di questo ballo? Meglio! Quanta energia! Quanta emozione! Ottimo lavoro! Ma non abbastanza da primo posto! Ecco chi arriva Chrissy! Vuole partecipare! Buona fortuna, tesoro! E oggi Chrissy canterà una canzone! Vuole essere come sua madre! Ma non è per niente come lei! Quella voce è orribile! Basta! Che cosa ne sanno questi giudici della musica? Annie risolverà tutto! Chrissy e sua mamma faranno un duetto! Che ne dite, critici musicali? Quella è l'unica e sola, Annie! Così va molto meglio! Brave! Brave! Vediamo dieci! Vinceremo sicuramente! Il sostegno della famiglia è il migliore! Annie ha una giornata importante! Deve fare un'intervista! Un'intera squadra di giornalisti è venuta a casa! Andiamo! Ecco la superstar! Ma Annie non è più solo una cantante! È anche una mamma! E sua figlia ha bisogno di attenzioni! Ciao! Ignoratemi! Sto solo prendendo i miei libri! Sembra che l'intervista non riuscirà oggi! Sto bene, non preoccuparti! Sai, c'è una bambina in casa! Una bambina? Dobbiamo intervistarla subito! Questa è una vera esclusiva! Christy, parlaci della tua famiglia! Volentieri! Le interviste sono interessanti! Oh no! Spero che non dica troppo! Niente più interviste a casa! Non tutte le mamme recitano in spot pubblicitari, giusto? Ma Christy è fortunata! La sua bellissima mamma è famosissima! E il suo profumo è stupendo! Ce ne sono così tanti! Wow! Proviamoli subito! Oh! Questo non ha affatto un buon odore! Ma è meglio non dirlo alla mamma! Eccola che arriva! Tesoro, abbiamo un regalo per te! Papà e io abbiamo pensato che fosse giunto il momento per te di guadagnare dei soldi! Ta-da! Questa è la tua linea personale di pannolini! Non sono carini? Non è una buona idea! Non sarebbe meglio pubblicizzare il profumo? Ma non puoi deludere i tuoi genitori! E vada per i pannolini! E dopo un'altra sessione di autografi! Ma se sei una star, devi lavorare sodo! Sono uscita bene in questa foto! Continuerò dopo una tazza di caffè! È così carino l'ufficio della mamma! E ci sono le sue foto dappertutto! Devo fare un regalo alla mamma! So chi adorerà questo disegno! Questo è per te, mamma! Ti piace? Certo, Christy! È un vero capolavoro! Appendiamolo! Ci sono così tante cose che puoi fare quando ti annoi! Puoi inventare qualcosa letteralmente dal nulla! E i genitori amorevoli sono sempre di supporto! Christy, questa sarà una nuova tendenza! Eccola, la futura star di TikTok! Che ne dite di un piccolo video di famiglia? Ehi, follower! Guardate cosa sa fare la mia Christy! È molto talentuosa! E Annie aveva ragione! Quanti like in un solo minuto! Ecco come funzionano le tendenze! C'è un concerto importante in arrivo! È un pessimo momento per avere il raffreddore! Pronto! Il concerto è annullato! Thomas! Thomas! Il mio maritino premuroso è sempre qui per me! Annullare il concerto? Ma come? C'è il tutto esaurito! Non c'è niente da fare! Annie non può cantare! Sembra che ci sia una soluzione! Annie, Christy canterà al tuo posto! Siete come due piselli in un bacello! Non lo so! Aspetta di vedere di persona! Annie, nostra figlia sarà perfetta! Magari ne uscirà qualcosa di buono! Oh mio Dio! Ho tanta paura! Non preoccuparti, tesoro! Sono con te! Buona fortuna sul palco! E usciamo da questa zona piena di germi! La mamma può guardare in tv il momento da protagonista di sua figlia! È l'ora del concerto! Christy è bellissima! La mia bambina! Dai tesoro! Canta! No! Niente canzoni oggi! È meglio mostrare al pubblico ciò che Christy sa fare meglio! Ottimo lavoro! Brava Christy! Perché i miei genitori sono sempre così occupati! Non hanno mai tempo per me! Non ora, tesoro! Oh, quanto possono lavorare! Forse la mamma mi pettinerà adesso! Non ora, tesoro! Annie sta avendo una conversazione importante come al solito! Ed è meglio non infastidirla durante il servizio fotografico! Ha un intero team di professionisti che lavorano per lei! Mamma! Non ora, tesoro! Come faccio a parlare con mia mamma? Non funziona! Ma Annie prenderà la decisione giusta! Tutti questi video, riprese, concerti... Sono stufa! La famiglia è ciò che conta! Sono a casa, Christy! Volevi che ti pettinassi i capelli? Allora iniziamo! Questo è ciò che Annie ha sempre voluto essere! Una mamma! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Vorresti che i tuoi genitori fossero delle superstar? Diccelo nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella! Non perderti altri video divertenti su Troom Troom Wow! Non perderti altri video!